Il successivo punto da considerare come chiave di volta del nostro programma è quello della spesa pubblica. Contemporaneamente la riduzione della pressione fiscale, che è il fulcro intorno a cui ruota tutto, e alla riduzione del debito pubblico vi è la riduzione della spesa, perché come in ogni famiglia se si decide di abbattere il debito bisogna anche ridurre la spesa, quindi quello che ogni mese va fuori dalla casa. In Italia abbiamo 800 miliardi di Euro di spesa dello Stato all'anno, questo è un carrozzone, un elefante da dover dimagrire, noi conosciamo bene questi 800 miliardi nei dettagli, cioè siamo andati chirurgicamente e microchirurgicamente ad analizzare dove questi 800 miliardi vanno a finire, non è vero che si riducano le spese dello Stato per forza toccando i servizi o il welfare. Si può ridurre nettamente la spesa pubblica andando a toccare solo privilegi, a parte i privilegi della casta pensiamo soltanto ai sussidi alle industrie di Stato, pensiamo ai sussidi che vanno alle poste, pensiamo ai sussidi che vanno a Eni, Enel e a tutte le anche partecipate locali dello Stato, un fiume di denaro che è perso ogni anno e toglie energia alle imprese che invece realmente valgono e che realmente producono, quindi si sposta ricchezza da imprese che producono a imprese che hanno bilanci negativi, ma soltanto per mantenere il carrozzone pubblico, pensate che solo questo vale ben 3 IMU e dunque la riduzione della spesa pubblica può essere fatta anche attraverso il taglio per esempio di pensioni d'oro, l'utilizzo della conoscenza di mezzi come quelli che sono i privilegi dei magistrati che hanno un avanzamento progressivo dell'anzianità senza nessun tipo di meritocrazia, tante cose da poter tagliare senza toccare i servizi al welfare, ridurre lo Stato e la spesa pubblica annualmente.